Quali lavi bene bene tutti i giorni? La bocca bionica o i nuovi denti? La bocca bionica, devi lavare bene, ok, è un arto artificiale quello, ne devi tenere cura. E ci sono modi e modi di ricostruire la bocca, ci sono tempi e tempi di ricostruire la bocca, l'ideale è non arrivarci mai a ricostruire la bocca, ma andare a mantenersi la bocca. La bocca va mantenuta come quando siamo ragazzi facendo quella che è la prevenzione. La prevenzione è praticamente questo foglio che oggi vi ho messo, vi ho dato a tutti, che se fosse stato fatto dalle elementari, noi non saremmo qua oggi a parlare di questo, di bocca bionica. E se vi avessero detto le cose per tempo, ok, c'è un post... C'è un post da poco che sta girando su internet dove c'è uno che insegna ai dentisti, ogni paziente è curato e un paziente è perduto. Ok? Chiaramente non è così, non ragionano così i dentisti o i medici, noi non lo diciamo, ragionano al contrario, un tempo il medico non era neanche, veniva pagato, facevano tipo il barato, ti do una cassetta di cipolle, grazie, sei venuto, hai insomma curato il figlio, il nipote, poi è diventata una professione, sono nate le partite IVA, sono nati i dentisti, prima c'erano i medici in famiglia, poi i dentisti, poi l'Italia era in boom economico, a un certo punto era una cosa accessoria al dentista, il dentista è costoso per motivi storici, il medico di famiglia non ti verrebbe mai di pagarlo 20.000 Euro, quanto vuole, quanto ti ha chiesto il medico di famiglia 20.000 Euro, ma che matto, il medico è gratis, però non si ragiona così riguardo al dentista, perché il dentista è venuto dopo ed era una cura accessoria, veniva vista come una cura, all'inizio era il cavadenti, poi sono iniziati negli anni 70 gli impianti dentali, poi sono iniziate le protesi avvittate sopra gli impianti dentali come questa, fino a arrivare poi a combinazioni di materiali, fino a arrivare a cose molto sempre più sofisticate. Quello che non è cambiato è il modello di visione nei confronti del dentista, che il dentista è una cura accessoria, come se la bocca non servisse per vivere, è una cosa in più, se c'è lo stomaco che funziona bene, se no è accessorio, fa parte dell'apparato digerente ed è uno dei bisogni primari, mangiare.